Weee che cactus fai! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci Xyuderone! Dai! Weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuderone e ragazzi come ogni giorno in tempo reale su questo canale i Fortbyte che escono li trovate con tanto di posizione esatta. Quello di oggi ragazzi ci chiede di utilizzare falco solare per sbloccarlo sopra una cascata ghiacciata ragazzi. La cascata ghiacciata è ovviamente quella presente ai vichinghi. Io ho paura che il Fortbyte non mi venga mostrato quindi seguirei un attimo la gente per vedere. Qua non è presente. Vediamo subito. Vi ricordo che dovete utilizzare ragazzi non la skin falco solare ma... Esatto lo spray che ha appena utilizzato questo tizio. Eccolo qua ragazzi il Fortbyte lo trovate praticamente qua alla base appare in questo momento noi ce lo prendiamo e quindi anche per oggi è stata fatta. Io vi ringrazio per aver guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live domani pomeriggio. Ciao! E non parte mai l'altro.